Ciao ragazzi, punto zero, è questo nuovo video e oggi farò vedere come fare tutte le saltie o cioè anche dette le scalette di corda del nostro bounty e quindi... SIGLA! Eccoci, come vi ho detto appunto prima della sigla, oggi andiamo a realizzare le scalette di corda non fate caso a questa che è diciamo staccata perché già sto registrando il video che vedrete dopo di questo quindi stavo già facendo altri procedimenti ma comunque andremo a realizzare le scalette di corda dovete perdere un bel po' di tempo perché considerate che io per farle tutte e sei, anzi tutte e tre alberi quindi quattro per ogni albero col fatto che comunque la mattina lavora, il pomeriggio pure e non ho molto tempo, ci sono state all'incirca una settimana semplicemente di impegna, se ci fate un po' tipo a passatempo così in una settimana e mezzo anche voi riuscire a farle anche perché dovete adotare tutti i fili uno per uno, potete tagliarli, incollarli e si perde così il tempo in questo video non vedrete moltissimo ma appunto perché per spiegarlo, per molti passaggi comunque ci vuole tempo per spiegarli e quindi diciamo non voglio superare mai dieci minuti perché poi potrebbe stancare un video così lungo comunque finiremo la serie completando interamente l'alberatura e la velatura e la scialuppa che ancora devo fare quindi detto questo io vi lascio al video cominciamo col prendere del fil di ferro, non è troppo spesso ma neanche troppo sottile all'incirca mezzo millimetro, lo spessore diciamo più adatto a quest'operazione sistemiamo vedendo io e vi sto facendo vedere i pezzi che dovremmo andare appunto ad unire in questo procedimento e con delle pinze, con delle mute adatte e ad arrodondare appunto il fil di ferro o il filo dottone in questo caso andiamo ad arrodondarlo pian piano e con molta precisione io in questo caso andrò a formare una forma ad otto appunto un cerchio più grande e uno più piccolo che trarà i due pezzi uniti se lo fate bene i pezzi potranno tenere anche soltanto incastrati però meglio mettere anche una goccia di attack o della colla per modellismo così per sicurezza se voi volete per aiutarvi in questo procedimento di piegatura potrete utilizzare appunto un accendino appunto per riscaldare il filo dottore l'accendino è meglio in questo caso della fiamma ossidrica perché non ha un calore molto elevato e non andrà a fondere il filo ma soltanto a riscaldarlo io come potete vedere man mano faccio varie prove con i pezzi appunto per vedere se si incastrano alla perfezione oppure se l'anellino è troppo stretto in tal caso è troppo stretto lo allardiamo ma se è troppo largo lo andiamo a stringere ok sto andando ad inserire la parte in fiore del pennone per vedere se entra in maniera perfetta e se mi incastrarsi bene e per questo abbiamo finito diciamo quasi infatti andiamo a tagliare con una tenaglia o con una forbice l'eccesso che c'è del filo dottone che appunto lo mettiamo di lato perché servirà per gli altri anellini con la stessa pinza di prima andiamo a sistemare un po' gli anellini che si sono allargati tagliando l'eccesso ed infiliamo la parte in fiore del pennone ora prendiamo la parte superiore e la infiliamo ma ho appena visto ovviamente inserendolo che la parte superiore è poco poco più stretta di quello che dovrebbe essere e il pennone non entra in maniera perfetta quindi lo allarghiamo facciamo tutte le stesse matite del caso e procediamo così per tutti i pennoni del nostro veliero ok dopo aver realizzato i vari anellini di metallo e i vari accessori da ovviamente montare nel pennone cominciamo a montare la parte superiore insieme alla parte inferiore quindi inseriamo il primo anellino che è quella a forma di 8 quello con cui abbiamo messo un po' più tempo per sistemarlo lo mettiamo intanto all'incirca quasi vicino al centro poi lo andremo a sistemare e a spostare successivamente quando andremo a sistemare meglio la parte inferiore del pennone ok ora voi lo vedete un po' che traballa perché appunto non è perfettamente fissata e dobbiamo mettere a sistemarla quasi identica a quello già montato che io ho già montato per farvi vedere come veniva il risultato finito appunto dobbiamo inserire una seconda parte, un secondo anellino che stavolta ha una punta appuntita infatti con un punterola andiamo a recreare un preforio di circa un millimetro che è appunto di circa, non proprio un millimetro, poco poco di meno che è appunto il diametro del nostro filo dopo aver realizzato il bug inseriamo il pezzo con la parte appuntita in modo da fissarlo provvisoriamente perché andremo ad incollarlo poi dopo per farlo tenere in maniera più completa e senza avere troppi intoppi infatti come state vedendo con un martello lo sto un poco poco martellando in modo da farlo entrare meglio nel preforo e fissarlo provvisoriamente così possiamo fare tutti i vari spostamenti senza rischiare che esca senza rischiare che poi voli via e si perda come potete vedere già stavo cominciando a sistemare un po' la posizione con una squadretta controlliamo che tutte e due i pennoni abbiano le stesse distanze con gli anelli e le stesse tipo di entrate in modo da farli tutte e due alla stessa posizione ovviamente se ci sia mezzo millimetro di differenza non farà nulla potete anche lasciarlo ok stiamo sistemando l'ho poggiato sul tavolo in modo da averli tutti e due dritti e in modo da farvi vedere come viene finito quindi ora con questo pezzo qua che sicuramente avete già visto nel video precedente andiamo ad incollarlo con l'attack perché è una maniera molto più rapida e perdiamo molto molto meno tempo sempre con la squadretta andiamo ad identificare appunto il centro del nostro pennone in modo da andare a inserire quel pezzo là nel frattempo io mi sono andato a segnare bene le parti inferiori del pennone in modo da sistemarle prima di incollarle definitivamente anche perché incollando il pezzo centrale si sposteranno un po' a destra e sinistra e perderemo le loro posizioni iniziali e dovremmo rifare tutte cose da capo ma siccome non vogliamo perdere tempo in più facciamo dei piccoli segni che poi diventeranno invisibili perché ci andranno ovviamente i pezzi sopra e che andranno appunto a identificare le posizioni esatte quindi continuiamo ho già trovato il centro e l'ho segnato con un puntino che andrà poi coperto durante l'incollaggio posiamo il pennelello che in questo momento non ci serve e prendiamo il pezzo che noi abbiamo creato nel video precedente e lo incolliamo una goccia di attac e lo teniamo per qualche secondo qualche circa 5-10 secondi il tempo che ci sta l'attac per asciugare quel tempo ci servirà comunque per sistemarlo meglio al centro del pennone quindi lo sistemiamo cerchiamo di fare le cose un po' più sistemati possibile ed ecco fatto come vedete già l'ho praticamente fissato si è già incollato e non ha più bisogno di essere spostato ora mettiamo altre due gocce di colla ai lati in modo da fissarla definitivamente e non avere intoppi di nessun genere controlliamo che tutte le parti inferiori dei pennoni siano alla loro posizione e procediamo con i vari incollaggi io ancora controllo se sono dritte perché anche se poi si vedranno poco con le vele ma comunque sono pezzi che comunque i dettagli della nostra nave devono essere posizionati in maniera a dir poco perfetta o perlomeno lì per lì ok ora stavo sistemando un po' il pennone che voi non vedete nell'inquadratura ma lo stavo un po' raddrizzando in modo da metterlo in maniera lineare con quello dell'altro lato con l'attacca andiamo appunto ad incollare il pennone cioè il pezzo inferiore del pennone con la parte superiore qui ne serve proprio una goccia precisa perché appunto i pennoni sono già incastrati con gli anellini quindi non ce ne sarà bisogno dopo aver incollato i vari pezzi fate questo procedimento per tutti i pennoni del nostro veliero cominciamo con realizzare le scalette di corda io ve ne farò vedere come inserire il primo filo e lo stesso procedimento lo dovete ripetere per tutti gli alberi e per tutte le scalette che sono all'incirca 12 se non mi ricordo male quindi prendiamo lo spago che in questo caso era fornito in dotazione già con i volumi del bounty voi lo potete trovare facilmente su internet perché io l'ho ordinato per completare l'operazione perché non mi è bastato ok quindi andiamo ad anodarlo al parapetto quello che vedete in basso e poi andiamo ad inserirlo all'interno del piano che tiene due pezzi di albero c'è una parte centrale che è forata appositamente per inserire il filo quindi non ci saranno problemi di nessun tipo la facciamo passare poi più in là se quanto completerete la scala se mettete un goccio di colla o un goccio di attack in modo da farla tenere stabile e non farla muovere giriamo il modello per far annodarlo nell'altro lato e tirare il filo in maniera quasi definitiva perché appunto non lo vedete in questo video ma più in là vi farò vedere come fissarli in maniera definitiva aggiungendo ancora appunto più dettagli quindi andiamo a infilarlo diciamo nel buco corrispondente a quello di prima e facciamo un nodo un nodo semplice senza doppio nodo senza niente un classico nodo che poi andremo a tirare man mano che lavoreremo su una scala quindi facciamo il nodo ok lo andiamo a tirare piano piano e facciamo il procedimento per tutti gli alberi ok ho messo tutte le corde verticali che andranno a formare la scala ma ora andremo a realizzare proprio la scala vera e propria con uno spezzola di filo alle circa 10 cm ma anche più corto andiamo a realizzare la prima fila della nostra scala considerate che dobbiamo andare a distanziare il primo filo dal piano della nostra nave all'incirca di 30-40 mm la misura che ho utilizzato io è all'incirca 35 mm poi ovviamente voi potete decidere quale tra le due utilizzare man mano che andiamo avanti quindi nei fili che stanno uno sopra l'altro possiamo fare dagli 8 ai 9 mm cioè quasi un centimetro ma non vi preoccupate non state lì a perdere tempo con le squadrette perché appunto potete farlo anche ad occhio non deve essere per forza 9 mm preciso anche se 8 non cambia niente l'importante è che la prima disposizione dei fili quindi il primo e il secondo tra i due lo spazio lo prendete con una squadretta così che sia ben preciso e potete seguirlo bene facendo poi la misura ad occhio in seguito considerate e dovete mettere in conto che ci vorrà molto ma molto tempo per completare tutti gli alberi quindi abbiate molta pazienza e se ad un certo punto vi stancano le mani o le braccia lasciate andare perché ne avrete poi per molto tempo ne avrete poi per molto tempo dopo appunto quando andrete a completare gli altri alberi io infatti per completarli tutti diciamo ci sono stato quasi una settimana se non di più non ho tenuto bene il conto dei giorni perché comunque sì alcuni giorni non mi sono messo a lavorare sulla nave quindi continuiamo a fare il nodo sono all'incirca 5 nodi e senza pinze come ho detto viene veramente veramente difficile appunto perché non si ha il pieno controllo del filo bisogna stare attento anche a non tirarsi tutti gli altri quindi andiamo a sistemare un po' i nodi ad adrizzarli e a tirarli se in caso serve una tiratina come sto facendo appunto in questo momento quindi ora dopo averli sistemati in maniera perfetta andiamo a tagliare le due estremità e con il taglierino appunto in questo caso montate una lama nuova in modo che appena lo poggiate il filo viene tagliato e non vi dovete mettere lì a tirare a fare avanti e dietro col taglierino in un attimo lo tagliate e vi levate in pensiero quindi tagliamo il filo in eccesso come appunto avete visto sistemiamo un po' i nodi perché si sono ovviamente spostati e come appunto lo vedrete con dell'attaca andiamo a fissare tutti i nodi con proprio una goccia precisa ma un pochissima in modo da fissarli tranquillamente facciamo questo procedimento per tutti gli alberi eccoci tornati il video ovviamente è finito qua come avete visto appunto nelle grippe vi ho fatto vedere i procedimenti per realizzare le scalette di corda appunto perché già solo per farne una ci vuole all'incirca un quarto d'ora una mezz'oretta e ci dovete perdere un bel po' di tempo come ho già detto inizio in video per completare tutte le scalette quello che avete visto fino all'ultima grippe è soltanto la parte diciamo iniziale perché poi il completamento definitivo delle nostre scalette si andrà ad effettuare nel video che vedrete la settimana prossima dopo appunto andremo ad aggiungere accessori ovviamente in plastica qui ma che nella realtà simulano quelli in legno con delle corde altre particolari e giustamente andremo a completare in maniera definitiva e poi procederemo io ve l'anticipo già da ora perché già ho visto i fascicoli andiamo a procedere con la realizzazione o perlomeno il completamento dei particolari dei pennoni non so se procederemo direttamente già all'assemblaggio sugli alberi ma sicuramente vi farò vedere come completarli in maniera decorativa quindi detto questo io spero che il video vi sia piaciuto lasciate unissimo mi piace sempre in descrizione trovate i miei link quindi il mio profilo Instagram e i link del canale Cess Alessandro nei commenti per qualun'informazione in descrizione elencherò sempre tutti i materiali che utilizzo in modo che anche chi di voi non ha donato la scatola di montaggio potrà andare a realizzare e comprarli appunto anche su Amazon perché ho controllato ci sono tutti quindi iscrivetevi al canale scelte di se mi piace attivate la campanellina per ricevere tutte le modifiche sui video che escono in questo periodo ogni settimana e quindi ciao ciao